Buongiorno a tutti. Parliamo oggi di che cosa? Di contribuenti forfettari e di sanzioni. Parliamo infatti delle sanzioni per il contribuente forfettario che non aveva diritto o ha perso il diritto ad utilizzare il regime agevolato. Infatti questo soggetto ha fruito delle agevolazioni indebitamente. Queste agevolazioni le possiamo sintetizzare in questo modo. Hanno determinato i costi nella misura forfettaria, esempio possiamo dire un 22% in alcuni casi, la determinazione di imposta sui redditi con un'aliquota del 5% o del 15% in luogo dell'aliquota marginale, un esonero dalla rivalsa dell'IVA, un esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica ai privati, obbligo che secondo le regole di fatturazione elettronica parte per alcuni soggetti dal 1 di luglio del 2022, esonero dalle liquidazioni periodiche, comprese le lipe e il versamento dell'IVA, esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, esonero dalla soggezione alla ritenuta d'acconto, esonero dagli obblighi contabili, salvo che cosa? Salvo la conservazione delle fatture di acquisto, l'esonero dallo spesometro e l'esonero dalla compilazione degli studi di settore, degli ISA o dei parametri. Quindi sintetizziamo le violazioni. Le violazioni sono di tre tipi, sono relative alle imposte dirette, all'IVA e alle ritenute. Alle imposte dirette abbiamo l'infedeltà della dichiarazione, un omesso versamento dell'IRPEF, un omesso versamento di addizionali comunali e regionali. Ai fini dell'IVA abbiamo la violazione dell'obbligo di fatturazione, della liquidazione del versamento dell'imposta, la violazione della mancata presentazione delle LIPE e la violazione della mancata fatturazione elettronica in caso il soggetto non avesse optato per la fatturazione elettronica. Per le ritenute invece, se il sostituto può dimostrare che non era in grado di verificare la mancanza dei requisiti, lo stesso non è responsabile di queste violazioni. Questo ce lo dice un interpello, l'interpello 245 del 2023 che dobbiamo tenere in considerazione. Quali sono le sanzioni applicabili? Allora abbiamo le sanzioni amministrative e le sanzioni penali. In presenza, è vero, in presenza di tenuità delle violazioni commesse, l'amministrazione finanziaria potrebbe non essere tenuta se signorazionare l'autorizzità giudiziaria di eventuali condotte delittuose. Quindi si hanno principalmente sanzioni amministrative e solo in casi di gravità anche quelle penali. Poi abbiamo il discorso della maggiorazione delle sanzioni. Perché? Perché la maggiorazione opera se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato ai sensi dell'articolo 1,74 della 190 del 2014. In caso di presenza di che cosa? In caso di presenza di una clausola di esclusione che non permetteva di utilizzare il regime agevolato. Allora, quali sono le violazioni alle imposte sui redditi? Le violazioni alle imposte sui redditi sono principalmente legate, come abbiamo visto, all'infedeltà della dichiarazione dei redditi. Da vedere se la violazione è avvenuta in corso d'anno, se la violazione è avvenuta per l'anno precedente, oppure se la violazione è avvenuta già per numerosi anni precedenti. Questo comporta una sanzione comunque proporzionale dal 90 al 180%, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997. E questa sanzione si applica sia all'IRPEF che alle addizionali che non sono state versate. Poi ci sarà un ulteriore problema che è quello di gestire il recupero dell'imposta sostitutiva che è stata versata in modo errato. Poi sono previste anche le sanzioni per l'irregolare tenuta della contabilità. Vediamo il caso delle ritenute da conto, ne abbiamo già parlato prima, le ritenute da conto ai sensi dell'interpello 245, se il potenziale sostituto non ne era conoscenza, sono a capo, in capo sempre al contribuente. Le violazioni IVA sono l'omissione totale della dichiarazione IVA, l'eventuale mancata indicazione dell'imponibilità ordinaria nelle fetture che sono state emesse in regime di split payment. Secondo l'Agenzia delle Entrate e secondo l'interpello 604 del 2020, non si applicherebbero le sanzioni fisse ma quelle proporzionali, in quanto in ambito IVA il debitore dell'imposta rimane comunque sempre il fornitore. Quindi rimarrebbero in capo ai contribuenti le sanzioni IVA proporzionali, comprese fra il 90% e il 180% dell'imposta per le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA ai sensi dell'articolo 6,1 del 471 del 1997 e conseguentemente la sanzione prevista dall'articolo 13,1 e 3 per carente di versamento dell'IVA dovuta. Le fatture emesse in split payment invece non incidono sulle sanzioni per l'omessa dichiarazioni. Con questo penso di aver sintetizzato senza terrorizzare nessuno quali sono i rischi e le sanzioni per un errore nell'utilizzo del regime forfettario e vi saluto e vi rimando alla prossima videopillola. Buona giornata a tutti e buon lavoro.